Non c'è stato nemmeno il fattore suspanse perché il dato si era già cristallizzato sull'80% dopo i primi exit poll. Antonio Bonanno sarà sindaco di Biancavilla anche per i prossimi 5 anni. L'esponente di Fratelli d'Italia ottiene 11.096 preferenze con una percentuale dell'81.71%. Lo sfidante del PD, André Ingiull, si ferma a 2.484 preferenze con una percentuale del 18.29%. Un risultato questo che non consente a Ingiulle, in qualità di candidato sconfitto, di accedere in Consiglio Comunale. Consiglio Comunale tutto quasi attinde centrodestra perché la coalizione di Bonanno sbanca facendo entrare nell'Assemblea cittadina 15 consiglieri su 16, una maggioranza bulgara. Così la ripartizione dei seggi e i nomi che entrano in assise. Vincenzo Amato, Martina Salvai e Rosanna Bonanno per la lista Biancavilla che lavora. Vincenzo Mignemi e Silvana Laudani per Prima l'Italia. Dino Caporlingua e Fabio Diorosa per Fratelli d'Italia. Salvo Pulvirendi e Francesco Battiato per Biancavilla e Nazione. Vincenzo Giardina e Giorgia Pennisi per Biancavilla Mi Piace. Marco Cantarella e Martina Paternò per Energie per Biancavilla. Luigi Dasero per il Movimento per l'Autonomia. Mentre al PD e dunque all'opposizione aveva un solo seggio con Melissa Pappalardo. Il consigliere più votato è stato Vincenzo Mignemi di Prima l'Italia con 829 preferenze. Sarà lui ad aprire la prima seduta del nuovo Consiglio Comunale. Per quanto riguarda i voti di lista, Biancavilla che lavora ottiene più voti, 1882. Davanti a Fratelli d'Italia che si ferma a 1766. Terzo gradino del podio per Prima l'Italia con 1684 preferenze. Grazie a tutti.